. . . . . . . . Sei forte, sei intelligente. Sei arrabbiata. . . . . Non capisco perché sono morti. Io non mi fermo. Unisciti a noi. E colpiremo chi ha ucciso i tuoi genitori. Chi siete? La famiglia Zani. Sono tra i più importanti produttori d'armi d'Europa. Ma noi temiamo siano anche molto altro. Che devo fare? Diventerai una di loro. Ma restarei una di noi. Posso entrare? Posso darti quello che hai sempre voluto? E' tecnologia, siete a te. Sono i grandi potentati a manovrare le nostre vite. Noi siamo solo pedine. Ma se fai così mi rendi molto nervoso. Posso fare molto peggio di così. ap拍ere. Noi siamo tutti. Grazie a tutti.